oggi vi voglio insegnare come fare un albero di natale la prima cosa da fare è mettersi un cappello da babbo natale solo con un cappello da babbo natale può venirvi bene l'albero di natale quindi dovrete stirpare un albero di natale e poi unirvi di palline e luci la prima cosa da fare e mettere le luci mettiamole una volta che avete messo le luci li dovrete accendere quindi presa la spina della corrente la dovrete inserire ed ecco le felici la seconda cosa da fare sarà inserire le palline procediamo messe le palline consultatevi con il vostro albero e chiedetegli se gli piacciono questi in caso che vi dica di sì gliele potete mettere potete cominciare anche dall'alto e circondarlo ed ecco finito l'albero mi raccomando l'importante è che non vi siete mai tolti il cappello altrimenti sarete squalificati il vostro albero non varrà niente al prossimo video per poterlo togliere innanzitutto poi ricordatevi anche che lo dovete fare entro il 24 altrimenti sarete squalificati ho 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 Shandangji, quale